Francesco Boni, più preziose sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Carissimi amici, buona giornata, una giornata molto particolare, una giornata che ricorderete perché oggi vi presenterò un artista che è qui a Milano casualmente e vi dico la verità l'abbiamo catturata, l'abbiamo letteralmente catturata perché volevo proporvi un qualcosa di assolutamente particolare. Voi sapete che noi parliamo spesso, anzi io parlo spesso, ma anche Gabriele, parlo spesso di un artista toscana che ha vissuto dei momenti particolari della storia dell'arte, ha vissuto i momenti più creativi della seconda metà del ventesimo secolo e è un artista che è arrivata lì dove vorrebbero arrivare quegli artisti che oggi il mercato ha portato a quotazioni milionarie, però nonostante le quotazioni milionarie non hanno inciso nella storia dell'arte universale quanto lei. Qualcuno dirà ma c'è qualcosa che non funziona, come mai degli artisti che hanno raggiunto quotazioni milionarie non hanno inciso nella storia dell'arte quanto un artista che ha oggi un'ottima quotazione, ma che non è ancora stata portata ai grandi prezzi internazionali. Questo accade, cari amici, perché? Accade perché oggi viviamo un sistema di mercato che ho cercato di spiegarvi più volte e credo che ormai l'abbiate assimilato. Il mercato oggi non si basa sui valori museali, non si basa sui valori storici, oppure diciamo in maniera un pochino più compiuta che non si basa solamente sui valori museali, sui valori storici, sui valori culturali, ma opera in funzione di una visibilità, di una vendibilità, di una possibilità di affermazione immediata, per una speculazione a breve tempo, che naturalmente porta alla creazione di mode e alla creazione di un sistema di vendite estremamente retributivo per gli operatori finanziari che le propongono, i quali spesso e volentieri sono anche, e all'estero è abbastanza comune, in Italia per fortuna questo sistema non è possibile, ma all'estero è assolutamente comune, spesso e volentieri gli operatori finanziari di cui parlo evitano di fare dei nomi, a meno che non siano eclatanti, come Messie Pinot, come Messie Gagosian, quindi nomi che ormai sono diffusi, sono iperconosciuti, la fondazione Prada, ma questi all'estero i maggiori musei del mondo e moltissimi musei nel mondo sono o fondazioni private o quando sono pubblici vendono azioni, quindi i grandi operatori finanziari sono anche azionisti dei grandi musei e questo ve la dice lunga sul perché determinati artisti vengono ospitati con frequenza e altri magari più significativi e più importanti vengono ospitati con meno frequenza. Oggi vi propongo un qualcosa che vi resterà per sempre nella memoria e vi propongo un qualcosa che è stato particolarmente importante per la storia della pittura italiana, perché noi ricordiamo, quando facciamo la storia della pittura della seconda metà del XX secolo, quindi della generazione del dopoguerra, noi abbiamo due punti di riferimento molto precisi, abbiamo un punto di riferimento che è Roma, la famosa Roma anni 60, che poi a me mi coinvolge in maniera personale, proprio perché l'ho vissuta fin dall'inizio, l'ho vissuta fin dal 58, dal 57, 58, quindi ne ho vissuto i prodromi, ho vissuto le grandi gallerie, ho vissuto la galleria di Sargentini, ho vissuto la Malboro a Roma, ho vissuto l'Attico, ho vissuto la galleria di De Marzis, quindi praticamente il Piper, quindi praticamente quel mondo è stato del mio mondo giovanile, poi c'era un mondo parallelo, anche se diverso, con delle frequentazioni, perché per esempio Manzoni apparteneva al mondo milanese, però l'affermazione, proprio la prima grande affermazione l'ha avuta con la mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, quindi quando Palma Bucarelli lo presentò alla gamma Roma e lì Manzoni è diventato Manzoni, cioè è diventato il mito, però le due città preminenti sul piano dell'evoluzione artistica sono state Milano e Roma per quanto riguarda l'Italia. Bologna aveva tutto un suo mondo particolare, lì c'era soprattutto Concetto Puzzati, che è stato un punto di riferimento importantissimo in quegli anni per Bologna e qui vedete le distonie del mercato, cioè un pittore di moda più o meno esordiente può costare, voi lo comprate perché pubblicizzato 15 mila, 20 mila, 30 mila Euro, Euro, 40 mila Euro sul mercato italiano e un pittore che ha la storia di Concetto Puzzati ieri sera l'ho presentato, un quadro strepitoso a 6500 Euro, nessuno ha detto ah, cioè cose da follia, Pozzati è presente non solo in tutti i musei italiani, ma in gran parte dei musei del mondo ed è un punto di riferimento per la storia dell'arte italiana nel mondo. e poi magari l'artista che va di moda a Palermo o a Roma o a Torino o a Milano, ecco lì che lo paghiamo i 30 mila, i 40 mila Euro, ma questo dura poco, dura minga, c'era un famoso carosello che dice dura minga, dura no, però il mercato è fatto così e voi siete le vittime prescelte dal mercato, perché tutto questo si svolge a vostre spese, perché siete voi che lo finanziate seguendo le mode e non seguendo la storia. Non voglio trascurare un punto di riferimento che negli anni 60 è stato importante, perché non dimentichiamoci di Torino, Torino ha avuto un peso determinante in quegli anni con coloro che hanno prima raccolto l'eredità di Casorati, cioè proprio il rinnovamento di Casorati e poi per tutto quello che è avvenuto nell'ambito torinese, soprattutto poi nell'ambito dello sviluppo dell'arte povera e quello è stato assolutamente determinante. Però, ecco, più o meno queste nozioni le abbiamo tutti, più o meno le nozioni tra Roma, Milano, Torino, Bologna, Concetto Pozzati. Poi c'era un centro estremamente efficiente sul piano culturale, ma che non ha mai avuto un riferimento di mercato. Questo centro, che poi è stato, e oggi lo scoprirete, che poi è stato un punto di riferimento essenziale perché Roma, Milano, Torino si sono abbeverati da questo centro. Quindi hanno trovato materia, spunto da questo centro e questo centro è stato Firenze. Oggi, devo dire la verità, per merito soprattutto delle televisioni, per merito delle tanto bistrattate televisioni che, sì, sono fatti commerciali, fanno tenerezza, addirittura qualcuno dice di peggio, eccetera, sul piano culturale non contano nulla, sul piano dell'informazione sono velleitarie, vabbè, lasciamo perdere. E invece oggi si sta riscoprendo tutto un movimento culturale che ha avuto una radice forte nella cultura fiorentina e ci rendiamo conto di come quegli anni, tra la seconda metà degli anni 50, l'inizio degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, la cultura fiorentina abbia avuto un'importanza di informazione nei confronti sia di Roma, sia di Milano, nei confronti di Torino, assolutamente essenziale, assolutamente straordinaria. oggi c'è una protagonista, è una donna, è una donna in apparenza serena, esile, però invece di una forza interiore incredibile, pazzesca, di una attenzione pazzesca ai fenomeni culturali contemporanei, ai fenomeni culturali della sua generazione, come sono molte donne, l'uomo è appariscente, vuole dominare la scena, vuole essere il protagonista, ma la donna invece è quella determinante, è quella che alla fine conduce il gioco. Una donna che oggi è il punto di riferimento, è l'oggetto di desiderio, è l'oggetto di desiderio dei più grandi galleristi del mondo, perché la donna che sto per presentarvi oggi è desiderata proprio dal punto di vista storico e culturale e per degli esiti commerciali importanti, è desiderata da tutte le grandi organizzazioni economico-culturali del mondo. è molto attenta perché lei è molto informata, perché lei le cose le sa, le ha vissute e conosce il sistema. Questa signora ha conquistato musei critici, storici dell'arte, non solo italiani, ma di tutto il mondo. È un'artista della quale si parla dappertutto, quando bisogna fare un riferimento storico, vedete Fontana è diventato Fontana in breve tempo, per riconoscere i meriti della Dada Maino ci sono voluti anni, ma per riconoscere i meriti di artisti al femminile e straordinari, ce ne accorgiamo oggi. Devo dire che la rivista per la quale, la rivista che ho l'onore di dirigere, Artein, dedica con Marzia Spatafoga uno spazio specifico alla donna nell'arte. Devo dire che stanno venendo fuori delle cose letteralmente straordinarie, delle cose letteralmente clamorose. Questa signora è stata una protagonista della vicenda artistica non solo italiana, ma mondiale, a partire proprio dalla sua giovinezza, a partire proprio da quegli anni che ho cercato di evocare in questa lunga presentazione. Per un artista esordire al Boburgo. Amici, ce ne vuole. E per un artista al femminile esordire al Boburgo negli anni 70 era un'utopia. Oggi, si è conclusa proprio recentemente, Carmelo gli ha dedicato un bellissimo servizio. C'è stata una mostra a Solesina, che è un piccolo come dimensione, ma importantissimo come spazio culturale. Una mostra che ha interessato, l'unica mostra italiana dell'anno, l'unica mostra italiana del 2021-2022, che ha fatto sì che si spostassero gli studiosi di tutto il mondo. L'unica. Le grandi mostre di Palazzo Reale, la grande mostra di Sigoni al Museo del Novecento, la mostra di Damian Erst. Tutte cose bellissime, tutte cose importanti, ma per gli studiosi di tutto il mondo, tutte cose già viste, tutte cose già assimilate. Per lo studioso andare a rivedere una mostra di Sigoni? Sì, va bene, interessante, ma se ti capita a passarci, non ci vieni da New York, perché ormai ho la stessa cosa per vedere la mostra di Damian Erst, poi non vi dico per la mostra di Bansky, che non ci vanno proprio, se non per essere presenti come fatto di cronaca, come fatto mondano, ma come fatto culturale. Ma che gliene importa? È tutto déjà vu, è tutto già visto? No, quella mostra di Solesina è stata l'unica mostra, non solo in Italia, ma nel mondo, che ha fatto sì che gli studiosi, gli specialisti di tutto il mondo venissero in Italia. E questa signora, noi oggi abbiamo avuto l'onore di catturarla, è qui con noi, è qui con noi e ne voglio letteralmente approfittare. Eccola qua, eccola qua, Franca Pisani, buonasera, ben trovata. Grazie. Soprattutto le devo un grazie, 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 perché avere l'onore di presentare in trasmissione un artista della sua storia, del suo calibro, della sua importanza, un po' nostro pubblico che è abituato ai grandi prezzi, che è abituato, ancora non ha assimilato quanto sia importante nella storia dell'arte contemporanea Franca Pisani. Oggi vorrei che se ne rendesse conto, mi deve aiutare, mi deve letteralmente aiutare. Io ho nominato la mostra di Solesina, perché? Perché dopo tutta una serie di mostri importantissime, tre biennali di Venezia, la mostra al macro, la grande mostra omaggio a Matilde Serau, a Castel dell'Ovo, le esperienze agli uffizi di Firenze, insomma Vienna, l'hamburger Bano fa Berlino, cioè Franca Pisani non ha bisogno di presentazioni particolari, perché è abituatissima alle grandi mostre, alle grandi esperienze. La mostra di Solesina però ha un carattere particolare, perché mette in evidenza un punto di partenza e vorrei che oggi Franca Pisani ci parlasse proprio di quel punto di partenza, dove è nata la sua ispirazione e poi quali personaggi l'hanno aiutata, quali personaggi l'hanno introdotta nel mondo dell'arte. Certo, ma il DAV che è Dipartimento Arti Visive è tenuto dai giovanissimi curatori che per due anni hanno seguito il mio lavoro che si chiama Album Operozio e Manumissio. Cosa sono? Sono stati la mia partenza. A 22 anni io a Firenze creo un posto che si chiamava studio, si chiamava studio Franca Pisani, in cui gli artisti solo concettuali venivano ospitati o in mostre o per presentare i propri libri ed erano scelti da me in maniera oculata. Tutte persone molto più vecchie, insomma vecchie. Molto più anziane. Io avevo 20 anni, questo mediamente dai 30 a 40 anni, tutti giovani, all'epoca 40 anni erano i giovani artista. Certo, ma ancora oggi. Io essendo una donna per avere forza per il mio pensiero concettuale ho cercato di coinvolgere questi artisti europei, non solo italiani, in questa operazione culturale, di condivisione. E sono venuti da Parigi, dall'Est, molti artisti dell'Est, Skoda, Tomecaviac, Mouchard, Tuzenis Greco e poi quello più importante per me in francese, Ben Bautier, che voi conoscerete, lui era proprio uno dei principali. Abbiamo progettato, io gli ho chiesto di fare un progetto artistico che poi io avrei emanato in timbro, il timbro d'artista. Quella è stata l'opera massima di Album Operozio, perché ne ho fatti prima i due. Il primo, molto importante, perché c'era Eugenio Miccini che mi ha aiutato. Lui ha fatto un'operazione al numero due bellissima, perché era un francobollo ironico, naturalmente Eugenio, e con un papiro enorme scritto da lui. Questa la seconda. La cosa più importante del 78, Album Operozio con i timbri. E quest'opera era in carta pergamena di Burgo, con velina che divideva ogni opera. Io ho fatto una mostra nel 1978, nel 1978, nel 1978 è ancora ad avvenire, con queste opere autentiche. Erano circa 100 opere, perché gli artisti che ho coinvolto erano circa 45. C'era addirittura dei registi Bigas Luna, che conoscerete tutti. Poi c'era Maurizio Nannucci e qui parliamo dei fiorentini. Però ora io voglio coinvolgere i fiorentini e gli europei in questo lavoro di condivisione. E piacque talmente tanto, perché io lo mandai a Pontus Hulten, che stava aprendo il Centre Bobour, che mi invitò, mi invitò a portare questo album Operozio. E io ho avuto un grosso comunicato con lui, ci siamo sentiti varie volte, e si è presentato all'inaugurazione. Io sono andata all'inaugurazione del Centre Bobour. Pensa tu. Con questo album Operozio, con tutti questi artisti dentro l'album, e questa roba è rimasta nella polvere per ben 40 anni. Io ho tenuto queste cose che ogni tanto facevo vedere a degli artisti anziani, che io consideravo possibilmente superiori per capirsi, a dei curatori, ma non lo capivano, non si entrava in sintonia. Alla fine, due anni fa, è venuto un quarantenne, un grande curatore secondo me, perché lui parla d'arte, non solo di mercato, ma di arte, e ha detto, ma queste sono cose pazzesche, nessuno le ha mai viste, dobbiamo capire a livello scientifico quello che è successo negli anni 70. A Firenze, perché io lavoravo a Firenze, in Borgo Tegolaio, centro storico di Firenze, Piazza Santo Spirito, studio Franca Pisani, arte d'avanguardia, questo mi ha anche portato, provocato dei problemi, perché arte d'avanguardia sembrava una cosa rivoluzionaria, ma lì arriviamo dopo. E diciamo che lo era anche. Molto, molto. Lo era molto rivoluzionario. Molto, io sempre vestita di nero, cercavo di dimostrare molto più della mia età, perché avevo sempre a che fare. E da me venivano sempre gli artisti famosi di Firenze, come Paolo Masi, Maurizio Nannucci, quasi tutti i sabati ci incontravamo. Però a Firenze già c'era un mito, che era quello nei nostri spazi. Certo, lui un po' più vecchio, lui era considerato già un artista conclamato, perché lui faceva parte di questi artisti della strazione geometrica, poi c'erano quegli altri, ma lui era, io lo ammiro, lo amo, perché lui è stato veramente un grande artista, ha fatto un'evoluzione pittorica concettuale e questo è già un grosso lavoro. E questa cosa mi ha molto portato avanti, questo albumo Perozio, perché ho potuto conoscere questi artisti, frequentarli, nonostante io fossi una donna. Per ogni mostra io facevo una performance, facevo una poesia visiva, perché mi aveva insegnato Eugenio Micini, soprattutto Ketty La Rocca, che era una grande artista, io sono stata ospite. Ma diciamo, ecco, se tu dovessi fare un parallelo tra quella che è stata Ketty La Rocca, che poi purtroppo è scomparsa, giovanissima, eccetera, e quello che è un mito della contemporaneità, l'Abramovic, come le collegheresti? Sono sorellanze, perché c'è un lavoro, però Ketty era ancora più minimalista, perché si parla degli anni 70, io la prima sua performance l'ho vista nel 74, lei in questo teatro piccolissimo, in Via dei Servi a Firenze, Piazza Duomo, mi invita Eugenio Micini, vieni a vedere, c'è un artista che sei una donna, andiamo a vedere, questa signora tutta vestita di nero, le labbra scarlatte, due mani bellissime, in mezzo al teatro, tutto un fumo che non si vedeva, perché all'epoca si fumava tutti come dei forzennati, tutti intorno a lei, e lei fa dei piccoli gesti con le mani, per una mezz'oretta, noi in silenzio a guardarla, emozionatissimi, perché si era ancora nel periodo manierista, i neomacchialioli, tutte queste robe qua, e Katie, lei meravigliosa, guarda, per me è stato un insegnamento enorme, perché io ero sola in quel momento, ero un'unica donna in mezzo a questa gente, e lei invece c'ava questa forza interiore, e sono onorata di dirvi che agli uffizi, alla galleria degli uffizi, non si dice museo, ma galleria, perché il direttore ti picchia se lo dici, galleria degli uffizi, il suo autoritratto è vicino al mio, e il suo autoritratto sono le radiografie del suo tumore, fino alla morte, lei ha presentato questo autoritratto, meravigliosa, invece il mio autoritratto contemporaneo è del 2000, è un onore incredibile essere accanto a lei, è stato fantastico, però tornando a loro, a questi artisti geometrici, io li trovavo, ho conosciuto molto bene Riccardo Guarneri, lui veniva spesso da me, e si faceva sempre discorsi sull'arte, e io allora capivo che loro facevano un lavoro che andava valorizzato ancora di più, ecco che nasce Manomissio, che è sempre nella mostra del DAV, dentro c'è Manomissio che vuol dire dalla francare e gli schiavi da condizione servile, una legge romana dell'impero romano, il primo impero al mondo, è la condizione servile qual è? La maniera, la condizione servile è la consuetudine, è la condizione servile qual è? Il condizionamento dei media, è quello che subiamo quotidianamente, è quello che è il dramma della contemporaneità, ed è il dramma anche del commercio dell'arte attuale, che vive proprio di condizionamento mentale del compratore, questa è una cosa di cui dobbiamo avere coscienza, di cui dobbiamo avere coscienza, e gli artisti, quelli veri, che non sono tanti, sono stati i primi a rendersene conto e ad averne coscienza, vedi Mambo per esempio, che l'ha capito nel 61-62, quando il condizionamento non era quello di oggi, ma vogliamo andare di fronte ai tuoi quadri? Volentieri. Perché qui c'è un'opera che ha duro, che viene, era esposta proprio recentemente all'orto botanico di Brera, è esposta proprio fino a pochi giorni fa, fino a venti giorni fa. Esatto, e lui, qui c'è il segno, io questo segno primitivo lo ho portato avanti dal momento che dalla poesia visiva ho capito che l'arte concettuale a temperatura fredda doveva essere, e lì entra sempre in manomissio, scaldata dal manufatto, cioè l'artista concettuale riprende in mano l'oggetto, la materia, qualsiasi, perché è l'individuo che deve uscire, non è solo il pensiero, l'idea, come era l'arte concettuale, perché dopo il pensiero rimane lì fermo, invece bisogna spandere, allora io ho iniziato a fare questi segni, perché? Perché per un certo periodo della mia vita ho dovuto solamente pensare, immaginatevi, non poter andare a giro, ma questa è un'altra storia. Questo invece è un marmo, anzi è travertino, giallo iran, che è poroso, ma è iran, iraniano. Perché non mi ricorda Goma. Eh sì, eh sì, di un colore bellissimo, su un albero antico dell'Ottocento, divelto dal vento nella Versiliana, perché io ora vivo a Pietrasanta per fare questi lavori e c'è stato un fortunale che ha buttato giù tantissimi alberi. Io per trovare questi alberi ci ho impiegato di più che a fare il marmo, dopo di che io ho detto, dobbiamo abbracciare il creato, quello che noi abbiamo intorno che è meraviglioso, con la creatività dell'uomo. Ecco che io ho avvolto queste povere piante, questo albero che rappresenta veramente la nostra essenza, con questa mia creazione segnica che viene poi in tutte le mie opere. Sì, questa è la tua, la calligrafia, quella che dici te, sempre. La calligrafia di Franca Pisani. Ma ritorniamo indietro nel tempo. Che impressione d'ha fatto? Sì, Nativi era già un artista. Era un po' più avanti, parecchio più avanti, sì. Sì, soprattutto come età, però sul piano del pensiero era affascinante. Credo che sia stato uno dei maggiori. Un artista che a me mi ha sempre colpito e che oggi sta tornando di gran modo, è un artista che tu hai conosciuto bene, Paolo Masi. Raccontaci un pochino di Paolo Masi, andando a vedere tre opere, tre cartoni. Fantastici, guarda, fantastici. Paolo Masi credo che sia stato a Firenze l'essenza di Firenze, perché lui ci fa vedere con una semplicità enorme quello che possiamo creare. Lui prende questi cartoni e ci dipinge sopra il suo mondo e li gira e li rigira. Io ho un pezzo che è stato dentro una mostra che fece allo studio Franca Pisani di Milano, perché io apri anche a Milano lo studio, fatto con le corde, con lo spago, un suo piccolo lavoro del 72. E lui cosa fa? Lui questo lavoro persevera, se vedi c'è questo cartone, ed è proprio come erano i miei lavori, Album Operozio e Manumissio, proprio l'arte concettuale con questo spirito dell'individuo, cioè l'artista ritorno ad essere individuo, non solo idea. Ma che personaggio era Paolo? Lui è di una bontà incredibile, è sfaccettato al massimo. Io, giovanissima, avevo 22 anni in questo momento e lui avrà avuto 40 anni, con una moglie bellissima, di una simpatia pazzesca. Lui girava il mondo con un Ford arancione, un camioncino arancione. Io apri lo studio a Milano, uno studio che poi è diventato importante, perché da me venivano Ettore Sozzas con la sua moglie, ho avuto personaggi veramente importanti e lui mi aiutò. Dice vieni, ti accompagno a Milano, perché io dovevo fare questo trasloco, per dire com'era una persona caro. Generoso. Generoso, generoso. E lui stesso mi diceva vai avanti Franca, anche quando io purtroppo ho avuto questo momento di pensiero, mi diceva vai avanti, vai avanti. Ma spiegacelo questo momento di pensiero, hai avuto un momento difficile, perché? Molto, molto, perché? Perché io avevo questo studio a Firenze, aperto anche lo studio a Milano, in via San Giovanni alla Paglia, qua a Milano, dove venivano questi personaggi. Everardo dalla noce mi aveva chiesto per il Sole 24 Ore di fare una lista dei prezzi dell'arte contemporanea, che ancora non c'era. Io quindi ero lì che aspettavo. Ettore Sozzas stava facendo Sozzas Associati e mi disse, te come artista potresti entrare? E io ero emozionatissima. Però un bel giorno, torno a Firenze, perché io andavo a Milano, a Firenze, e in quel momento avevo la mostra di Adolfo Natalini, l'architetto, l'archistar Adolfo Natalini, quello di Archizum. Io ho un suo divano rosso a onde di Adolfo Natalini, che te forse hai visto nel mio studio. E lui aveva il suo tempio, lui aveva fatto un tempio di sabbia con la memoria a Firenze, io ero a Milano, torno a Firenze, io abitavo ancora con la mia famiglia, ero giovanissima, e mi chiamano. Scegli, domattina alle 8, porti sua figlia in questura. Credo che Fantozzi in confronto non era nulla. Io e mio padre in macchina, lui mi guarda e mi fa, Franca, cosa hai fatto? Dimmi tutto, io ti aiuterò e ti perdonerò tutto. Ma devi dimmi, io faccio l'artista, non ho fatto nulla. Sono certamente uno spirito libero, sai, quest'arte d'avanguardia, ancora non la capiscono, però non ho fatto veramente niente. Arriviamo, mi ricordo ancora, il dottor Fasano, mi emoziono solo a parlarne, mi seggo, tipo Fantozzi, e mi fa, c'è lei sa che a maggio del 1978, quest'anno, è morto Aldo Moro. Dio, sì, lo so, stiamo cercando la cellula fiorentina delle Brigate Rosse. Io quasi mi rilasso. Dio, bene, ci sospettiamo che lei sia parte di questa cellula. Io dico, guardi, io faccio l'artista, scrivo, manumissio, liberare gli schiavi da condizione servile, faccio la poesia visiva, faccio le performance, però di politica, niente. Noi artisti siamo uno spirito libero, lei venga, perquisisca il mio studio a Firenze, a Milano, io non ho problemi. Se lei non ha nulla da nascondere, non si preoccupi. Usciamo, sempre nella macchinina, io e mio padre, mi fa, Franca, in questo momento sei sotto l'occhio del ciclone, devi sparire, altrimenti ti troverai malissimo. Ritornando indietro, il Fasano mi aveva detto, se lei non era una dei nostri, perché mio padre era un funzionario dello Stato, noi l'avremmo presa alle 5 di mattina e fra un mese interrogata. Io pensavo, un mese in galera, cosa ho fatto io per andare in galera, non è possibile. Per cui accettai quello che mi disse mio padre dopo aver avuto questo successo strepitoso, Bobur, Gallere Studio a Milano, tutti questi interessi, dovevo fare la giornalista, dovevo fare l'artista da Sozzas, e forse chissà, chiudo, io mi ricordo ancora Giancarlo Politi mi scriveva, ma dove sei sparita? Io sono all'isola d'Elba, perché i miei sono dell'isola d'Elba, in esilio proprio, è stato un omicidio bianco, perché io a quel punto mi sentivo, oddio, sceso. Io, ecco, adesso sono passati tanti anni, capisco quello che può essere accaduto in quel momento, eccetera, ma in quel mondo, che era il mondo dei Masi, che era il mondo dei Guerneri, che era il mondo di Gallingani, di Vinicio Berti, eccetera, c'era un, non voglio dire un contatto, no? Ah, erano tutti di sinistra, tutti dicevano viva la libertà, ma era intesa per l'arte, per la cultura, perché la cultura deve essere libera, non può imprigionarla. Ma quindi non c'era un fatto politico, assolutamente? No, ma no, assolutamente, io ero femminista, nel senso che ero ispirata da Cattie La Rocca, dicevo che le donne devono libera, ero un cavolata nera, volevo, voglio diventare un uomo, perché è possibile che non riesco a esprimere la mia arte, se no tutti questi artisti si sentono tanto, io devo entrare piano piano nella mia performance, però questa cosa mi ha aiutato, perché fermandomi ho capito che, prima di tutto dovevo lavorare, perché a casa mia sorella doveva laurearsi in medicina, se licenziavano mio padre, che era un alto funzionario di Stato, si andava tutti sottoterra, per cui ho cominciato a lavorare, ho fatto la stilista, guadagnavo anche, ma ero infelice. Che poi, guarda il caso, ha fatto la stilista da? A Chiara Boni. Guarda, è una cosa strana, vero? Questo sottile filo. Questo, che poi sono due famiglie diverse. Sì, però c'è il cognome. Però il nome c'è e il cognome c'è. Praticamente cosa è successo? Io ho capito che la mia arte doveva continuare, e ho studiato, e sono arrivata al segno, perché il segno primitivo ti pulisce. Io ho avuto un grande aiuto, sono andata a abitare in campagna in un eremo. Ma per esempio, Vinicio Berti o Gallingani, ti hanno aiutato nella ricerca del segno? Vinicio Berti, io l'ho conosciuto quando ero praticamente una studentessa, perché io ero molto famosa all'epoca, ero un genietto, per cui mi chiamarono, e io insieme a Vinicio Berti andiamo a vedere uno spazio ancora tuttora desolato di Firenze, perché volevano fare un centro culturale. E Vinicio era uno scatenato. Lui diceva, l'arte è per tutti, non deve costare nulla. Lui faceva queste opere, molto importanti, perché lui rappresentava sempre Little Cedar di Piombino. In che senso? Lui diceva che quello è un inquinamento, fa venire la silicosi, il mare era rosso all'epoca, era rosso di cadmio, era orrendo, e quindi lui cercava di far capire che questa fabbrica era lo sterminio dell'essere umano, e aveva ragione. Quindi lui, sì, gli operai gli interessavano, ma gli interessava soprattutto il fatto che in quel momento, infatti hanno fatto grandi lavori a Piombino, è stata pulita, ma lui era disperato perché amava questi posti. E a me mi abbeveravo, diceva l'arte è per tutti, bisogna essere, era politicizzato. Diciamo che c'è sempre stato politica, ma cos'era la politica dell'arte? Era della libertà dell'uomo, non che uno doveva ammazzare Aldo Moro, voglio dire, boberino, una cosa completamente diversa, però mi ha molto dato forza. Pensate che per sei mesi ho avuto due poliziotti dietro in borghese che mi seguivano. Eh certo, perché ero una sospettata. Alzavo la fornetta del telefono, si sentiva clock. Clock. Ed erano loro, per cui ho sempre, adesso dico sempre, prima di dire che uno è colpevole, bisogna avere le prove, perché se no sei una vittima del sistema. Io sono stata una vittima del sistema, che però mi ha esaltato, perché sono riuscita a entrare dentro la mia personalità autentica, non ho più, non ho imitato mai nessuno, solo il mio lavoro è sempre alla ricerca, continua, continua. Gallingani allora era giovane. Gallingani io l'ho conosciuto, lui addirittura non lo sa, ma c'è un pezzettino in albumo per ozio, che ha fatto lui. C'è un pezzettino in albumo per ozio di Gallingani. Al Dav di Soresina c'era un suo pezzettino, perché nel 78, quando ho fatto l'albumo per ozio con i timbri, c'era anche lui, che è molto bravo, è una persona amabile, è un grosso intellettuale, e poi ha una mano splendida. Una mano splendida, devo dire. Ecco, questi qui sono gli artisti, i fiorentini del segno. Eh sì. Sono gli artisti del segno. Ma il segno di Franca Pisani, che poi, dove lo ritroviamo? Io sono un innamorato di questo. Eh beh. Io sono un innamorato, questa è stata una mostra pazzesca. C'era che racconti? Sì, questa è a Palermo nel 2011, si chiama Attraversamenti, quanto tempo fa, dove io affittai una casa a Orbetello, presi delle carte pergamene, perché io dopo Burgo, dopo la carta pergamena di Operozio, non ho più trovato, Burgo ha smesso di fare carta pergamena, ma facevano addirittura carta per pulirsi, insomma. Esatto. E invece ho trovato queste grandi metrature di 10 metri che io ho unito tutte insieme e ho fatto un segno unico che rappresentava quest'idea primitiva. Cioè l'uomo, il bambino che c'era nelle caverne in cui si disperatamente cercava di dire ci sono. Era come ero io, che ci sono, sono io e quando io faccio un segno, come tutti, anche con un lapis, con una piccola penna, noi rappresentiamo la nostra personalità. E questo segno è stato bellissimo, perché attraversamenti abbiamo girato dappertutto in questi saloni stupendi, veramente meravigliosi, e poi c'erano i nomadi. I nomadi che rappresentavano l'uomo, quest'uomo che usciva dallo schema, come ero stata io. Si vedono un pochino in copertina, ecco i nomadi. E questi nomadi percorrevano questo abisso, che è la vita, perché si domandano, la domanda più importante nella vita è perché ci sono, cosa facciamo, e oggi credo che più che mai si debba dire. Voglio dire ancora che su Album Operozio io avevo invitato molti artisti dell'Est, perché gli artisti dell'Est erano fuggiti e a Parigi sono stati presi all'Accademia, lavoravano e lavorano alla Sorbona, Skoda, Moucha, Tuzenis, Tuzenis Greco, Moucha, Skoda e un altro che non mi ricordo, comunque artisti importanti dell'Est che ad oggi sono famosi, se uno va su Google, googlando come va di moda adesso, ma venite a vedere la mostra, purtroppo non si può più vedere, finita del DAV, dove c'erano tutti questi artisti, una mostra stilosissima, e questo a merito di due anni di lavoro, abbiamo rispolverato 100 opere antiche di 40 anni, di arte concettuale, e questo è un lavoro che nel 2023 avrà un grosso botto, ma non posso dirlo, non posso dirlo perché nel 2023 Album Operozio e Manumissio, dove il curatore era Enrico Crispolti, io amo sottolineare chi era, che ci ha aiutato a scrivere, perché per lui era una novità, cosa dobbiamo fare? Perché Crispolti era... Giovanissimo, capelli rossi... Ma era non solo una novità, ma è stato fondamentale poi, la comunicazione di Franca Pisani, è stata fondamentale poi per tutto lo sviluppo dell'arte povera. Quello che ha fatto Ceylant poi ha una matrice... Certo, ma io stessa ho avuto Fabro, che io stimavo in una maniera superlativa, lo chiamai a Firenze perché volevo fare questa mostra, Enrico Crispolti, esatto, questa mostra di lui al mio studio, mi fa Franca, se vuoi fare una mostra mia nel tuo studio, ci vogliono 5 milioni, parlo di 40 anni fa, io guarda, noi siamo tutti artisti in canna, ci riuniamo nel bar col caffettino, bicchiere d'acqua, chiacchieriamo da arte, di forza, ma tutti... Dice, purtroppo il materiale, i marmi hanno dei costi superlativi e lui stava facendo l'Italia in marmo, faceva delle cose meravigliose, non posso, e mi è dispiaciuto tanto, però lui mi ha raccontato del suo lavoro, del suo percorso, era una persona unica, che mi mise in contatto con Iole de Sanna, di cui parleremo dopo, perché te hai una cosa importante questa sera, no? Ah beh, sì, abbastanza, abbastanza. Abbastanza, comunque questo segno è nato proprio dopo questa mia fermata del sistema, ma quella è stata la ribellione, questo primitivo qua era dentro di me ed è dentro tutti noi, questo io voglio dire, che non ci vogliono i miliardi per fare l'artista, anche un foglio di carta, io infatti amo molto le opere su carta, un foglio di carta è un lapso. Le pergamene di Franca Pisani sono tra le cose più belle della storia dell'arte contemporanea. Perché sono lì, innocenti, pulite. E sono così ne così, ma le pergamene di Franca Pisani hanno un peso storico incredibile. Di pergamena fatta da me, perché ormai Burgo non c'era più. Eh, lo so. Oh, le ultime opere di Franca Pisani. Questa è molto interessante, perché in contemporanea al DAV, Dipartimento Artivisive di Soresina, tenuta da questi curatori, veramente che hanno fatto un lavoro scientifico, che noi porteremo nel 2023, in posti molto importanti. Dopo questo, a Torino, a Chieri, sono stata premiata, ho avuto il premio alla carriera, perché ahimè, comincia a essere quasi 50 anni che lavoro. Quindi, ho avuto un premio pazzesco e ho creato per lì, perché lì ci sono dei manufatti delle industrie tessili pazzesche, dei quadri come questo. Questa è una tela di riciclo, perché oggi bisogna sempre lavorare concettualmente e qui mi fa piacere vedere questi due, perché riflettono proprio il mio lavoro. Questo è per sottrazione di colore, perché qui ho lavorato con gli ossidi e un acido biologico che ha sottratto il colore alla tela, tela di riciclo. E questo, sì? è importantissimo spiegare questo. Cosa significa sottrazione di colore? È molto concettuale, perché noi siamo abituati a aggiungere, nella vita aggiungiamo, mettiamo, ci vestiamo, ci riempiamo di cose, compriamo, e invece, se noi facciamo un po' di sottrazione, oggi più che mai, se togliamo, invece di aggiungere, ecco che allora, io come artista, ho voluto rappresentare quest'idea concettuale, sottraendo il colore a questa tela, con il mio segno, perché questo è un lavorone, perché io quando sono davanti a questa tela, io lavoro sempre con le tele per terra, tele per terra, pennelloni lunghi due metri, io con questi ossidi e questo acido biologico, non è pericoloso, creo questo segno che viene a scolorire la tela ed esce fuori questo. Questo è proprio l'ingetto. Quindi non è applicato, la creazione del colore, è proprio il contrario. Il contrario, cosa che invece è l'opposto qua, qui siamo per addizione, qui sempre con gli ossidi, che io lavoro da sempre, sono riuscita a usare questa materia grazie al liceo artistico dove un grande professore mi disse, senti, te che sei così brava, vuoi usare una cosa che non la usa più nessuno, gli ossidi. E io cominciai con queste polveri, perché è polvere, terra di siena, quella con cui dipingono i muri, però bisogna farci un colorante insieme. E qui ho aggiunto, quindi questo è per addizione, qui c'è ossido e lacca, sempre col pennello per terra, questa tela, che poi io metto nel telaio, i telai industriali, però è sempre telaio. Questo è lino, lino cotto, quindi soltrazione e addizione, molto concettuali tutti e due, però pieni di una forza visiva, non solo concettuale, perché oggi dobbiamo vivere, è un po' come Paolo Masi, lui è un concettuale, però c'è il cuore, c'è la forza della manualità, l'idea diventa anche di getto, perché in quel momento quell'azzurro lì non sarà mai come quello di fra due giorni, sono cose importantissime queste. e questa anche, sempre per sottrazione e guarda bene, qui la sottrazione del colore è diventata marrone bruciato, perché dentro il colore dell'azienda che faceva questa tela, probabilmente ci sono questi pigmenti che io ho tirato fuori, qui c'era questo ecru, perché questo è lino più leggero, quindi è un gioco difficile, a secondo della tessitura ed è bellissimo questo, vedere che, un artista deve sempre scoprire qualcosa, non puoi rimanere sempre lì. Però il tema è quello del mare. Ah, si ha ragione, scusa, io dal marino Marini dove feci un'installazione con le sabbie per l'erosione delle dune, e mi dirai che sono le dune, nelle spiagge, una volta c'erano queste dune che aiutavano a non mandare via la sabbia, allora io che sono nata al mare, per rispetto a questo mare ho detto faccio un'installazione, tutti vennero, io pensavo di ora me la buttano giù estasiati, perché erano di una spiritualità questi piccoli castelli di sabbia e questi lavori sono dedicati agli oceani e ai mari, questo è il sargasso, il sargasso ce l'abbiamo nell'Adriatico, sono alghe, sono alghe, questa è la cistoseira, sono alghe marine che ossigenano i mari e aiutano all'inquinamento, addirittura a Trieste stanno studiando che c'è un'alghetta che diventa una pallina e pulisce i fondi marini e vorrebbero, questo lo fa in natura, però vorrebbero riuscire a farlo in maniera che levano lo sporco, che lo inglobano queste plastiche di schifo, io che ho l'onore di essere nata al mare e di viverci, volevo fare questo lavoro sull'ecologia, passando dalle sabbie del Museo Marino Marini siamo arrivati alle alghe, è un po' difficile da capire ma io penso che tutti amiamo il mare, i nostri, cioè non solo le piante ossigenano l'aria, anche le alghe, anche le alghe, certo, e qui invece andiamo nel, io impazzisco per questo, e ne credo di non essere l'unico perché tutti i grandi direttori di museo quando ti chiedono un quadro vogliono questi. Questi sono il Museo Marino Marini di Firenze vengo invitata è stato un grande onore perché al Museo Marino Marini pochissimi riescono a esporre è prima di tutto uno spazio difficile perché ci sono queste grandi sculture di lui che sono bellissime. Posso dire la verità? Sai perché non vogliono esporre il Marino Marini? Perché fanno brutta figura. sai perché non faccio nomi ma nomi che il mercato paga centinaia di migliaia di euro invitati al Marino Marini dopo aver, dopo essere entrati nel museo vedono lo spazio espositivo è pazzesco. Vedono con chi si devono confrontare e dicono grazie un orato ma ho molti impegni non ce la faccio è difficile e non faccio nomi per carità di patria comunque non faccio nomi per carità di patria è vero e loro sono sempre concettuali perché questa è tela non è dipinto di ecru è proprio nata così è una tela su cui io lavoro e aggiungo queste nervature che rappresentano sempre il segno di cui abbiamo parlato prima e questa è la biacca questa è una sabbia bianca praticamente che io metto e che si apre in questo che rapporto hanno questi fondi bianchi con il monocromo con la cromo di Manzoni con quella che in quegli anni è stata la riscoperta proprio con gli americani certo c'è una diversità enorme secondo me sì questi rappresentano il dopo loro hanno aperto questa strada hanno detto basta la pittura basta c'è solo il bianco l'arte loro rappresentano l'annullamento l'annullamento bravissimo qui invece si riscopre l'artista individuo che dice sì io voglio essere nel bianco ma non è un bianco di cancellazione dell'arte è una nuova arte stiamo camminando in qualcosa di diverso e ora c'è addirittura l'arte tessile ditemi se questa non rappresenta anche l'arte tessile cioè l'artista deve essere poliedrico deve essere pittore concettuale performance un artista ha tutto tondo non si può più fare la geggino e stare lì non puoi fare il pittorino che fa il paesaggino o che fa l'astrattino no no dobbiamo incidere anche perché la gente è molto preparata oggi siamo abituati al visivo la digitalizzazione dell'arte ha portato a avere un occhio molto attento quindi le persone capiscono al volo di cosa stiamo parlando no eh magari io speravo di... cioè no gli studiosi capiscono al volo di che cosa stiamo parlando no infatti hai ragione ma come sempre il pubblico l'asservatore chi non è pratico del ramo ci arriva piano 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 ci arriva piano piano comunque e questa è una caratteristica proprio ma storica no certo quindi la divulgazione poi è estrema importanza qui ci sono due opere che vi dico francamente mi fanno impazzire sono molto belle anche io le trovo belle perché rappresentano quest'inizio di questa novità questo oggetto così e al marino marini c'erano loro e nel mezzo c'era l'installazione delle sabbie quella che dicevo quindi sempre e sculture perché io se vedi alla fine sono sculture queste questo è un basso rilievo come per esempio queste sono cose che escono fuori perché io dentro la mia anima ho questo scultore che si muove come un matto e ha voglia di uscire esce sempre proprio perché il lavoro deve essere sempre autentico mai copiare certo all'inizio mi dicevano ma cos'è questa roba io quando ho fatto questi attraversamenti venne il curatore a vedermi io all'epoca abitavo nell'eremo in cui mi ero nascosta dopo questo problema del sistema e stavo in un eremo sola avevo messo queste strisce nell'aia perché c'era un'aia bella quando arrivò lui io ho detto mio marito che è il mio assistente molti lo conoscono mi fa Franca ma cos'hai fatto cos'è questa roba io Mary questo è quello che ci sarà d'ora in poi arriva il curatore che non se l'aspettava lo faccio affacciare dalla finestra al primo piano per vedere tutta questa striscia gigantesca sull'aia e mi fa Franca sono bellissimi e io rimasi perché era una cosa talmente nuova perché passare dal colore al niente era forte e avevo fatto anche quelle cartine quelle pergaminine ero divertita raffinatissime raffinatissime ecco ci hai parlato di Firenze ci hai parlato di Masi di Berti di Nativi certo qui c'è un'ardesia di Marcheggiani che non è fiorentino no però entra in quel genere di pittura analitica no che ha una matrice proprio legata al vostro concettuale esatto Riccardo Guarneri era uno degli artisti fiorentini legato anche a questa appartenenza perché sono minimalisti e quasi un po' manumissio esatto proprio manumissio a me Marcheggiani piace in modo particolare perché applica una pittura assolutamente geometrica che poi in realtà sono proprio riduzioni di colore su materiali diversi in questo caso l'ardesia ha un fascino ha una pulizia una garanzia di arte vera che è straordinaria perché lui lì ti dice io sono questo sono nudo eccomi qua o ti piace o niente non ci sono mezze misure è un'arte difficile perché Nativi ha già un occhio più estetizzante lui ti fa la striscia e te devi essere lì e capire com'era Cathy Larocca che mi faceva quei piccoli versi sì sì ma sono proprio accenni accenni sono proprio accenni che ti portano verso pensa che questa mia idea d'arte nuova mi ha coinvolto anche perché ho visto una performance di Cunellis a Firenze nel 72 in cui avevo questo Cunellis questo Cunellis era lì che ci rappresentava si era sdraiato per terra con la gamba in su e una bomboletta da campeggio accende il fornello mette il piede su questo fornelletto e sta lì mezz'ora noi a guardare tutti intorno e aspettare se esce il caffè non esce cosa sta facendo alla fine alla fine lui si alza slega la caffettiera dal piede e se ne va e noi eravamo impazziti perché si è capito che anche lui voleva riformare l'arte rinascere capisci cosa voglio dire e lui è così è così guarda non ti impegno di più perché so che hai un appuntamento importante per la serata esatto però una domanda ancora te la voglio fare quando io ho presentato la trasmissione di oggi ho nominato Torino Milano Roma ma Firenze deriva da queste intuizioni o è provocatrice nei confronti di quello che è accaduto poi in queste città era molto provocatrice tu sai che i toscani era qui che volevo non sai bene era qui che volevo arrivare i toscani sono molto molto forti questi erano tutti cavolati neri volevano la nuova arte era un'arte forte questa arte concettuale a cui io mi appoggiavo proprio idealmente ma che doveva essere internazionale perché ti ho detto da me c'era Rebecca Horn Rebecca Horn è una delle più grandi artiste e registe di venti di venti bellissima abbiamo avuto tanti tanti artisti 45 artisti hanno lavorato in album operozio che io porterò nel 2023 vi farò sapere perché i curatori attenti come hai detto te prima lavorano e dopo chi ha visto il DAV mi ha inquadrato e ci sarà una grande ci sarà un seguito molto importante molto importante seguitelo perché servirà all'arte non a me adesso aggiungo una cosa lo sai perché gli artisti di quel periodo di Roma di Milano di Torino costano cifre importanti e i fiorentini ancora costano cifre piccole perché l'arte concettuale non si vende bene non è questo no no non è questo non è vero che l'arte concettuale non si vende bene perché Mazzoni si vende benissimo certo quando io e Carmelo nell'83 84 presentavamo una vatta di Mazzoni il pubblico ci prendeva per macchie però nei musei già c'era l'ovatta di Mazzoni oggi e allora l'ovatta di Mazzoni costava relativamente poco un rosai costava più di un'ovatta di Mazzoni poi Carrà non ne parliamo Carrà costava un patrimonio rispetto all'ovatta di Mazzoni però noi per vendere un'ovatta di Mazzoni quanto ci mettevamo una trasmissione intera e ne vendevamo una poi dall'auto veniva il richiamo dice ma che avete fatto un quadro ci hai messo due ore quando no niente dicono che una trasmissione così bella non l'hanno mai vista nella loro vita la dicono in tantissimi grazie grazie un grande onore troppo carini troppo carini capito e allora che cosa è successo abbiamo tutto commercializzato esatto cioè non allora queste opere il grosso pubblico non le capiva certo però Roma Milano e Torino hanno avuto dei mercanti bravi ah sì capisco i mercanti sono rimasti legati ai post macchiaioli fino a ieri fino a ieri a Firenze c'è stato videotape che è diventata una cosa mondiale sì però ora perché all'epoca ora c'era zona fatta dagli artisti Maurizio Nannucci e Paolo Masi gli ideatori fantastici e poi non c'era nulla nulla assoluto ma non c'era il mercato non c'erano i mercanti no 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 a Prato invece c'era una anche il collezionista a Prato c'era il falsetti che poi è diventato un falsetti eh sì 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 grande commerciante sì però legato più agli schemi del novecento allora sì poi dopo sì sì naturalmente è diventata una grande galleria e poi si è modernizzata allora io me lo ricordo bene perché allora c'era falsetti e falsetti allora si chiamava ancora falsetti a Prato c'erano i Russo a Roma e poi a Milano invece c'erano c'erano diverse gallerie la mia galleria il mio studio però erano molto legate ancora al novecento le gallerie d'avanguardia erano quelle che ho nominato prima a Roma a Milano c'era la Pollinaire con personaggio stranissimo Guido Lenucci me lo ricordo ancora personaggio incredibile d'avanguardia intellettuale straordinaria però insomma poi sono nati i grandi mercanti che hanno fatto sì che determinati artisti acquisissero una visibilità e quindi un mercato importantissimo Firenze oggi c'è tutto Milano oggi non è sempre stato internazionale quindi a Firenze è mancato il mercato mentre invece tutta la vostra tutto il vostro gruppo di artisti è stato importantissimo per la crescita culturale culturale degli altri artisti quindi è stata una cosa letteralmente straordinaria ma quando io ho fatto la mostra al Marino Marini perché poi i fiorentini si sono avvicinati all'arte contemporanea è venuta una marea di gente io il giorno dopo avevo la febbre al 38 dall'emozione proprio perché ho detto ma come i fiorentini che prima quando io aprivo lo studio poi entravano due guardavano addirittura nel periodo che vi ho raccontato io sempre vestita di nero col cappello nero c'era una signora che abitava lì davanti quando vennero a indagare i poliziotti ma che fa ma la signora mi sembra che faccia le carte la cartomante perché stavo seduta col tavolino e scrivevo la poesia visiva mi vedeva dalla finestra e ho detto ma come ma come la cartomante ecco la cartomante di Borgo Tegolaio andate a Firenze e troverete via Borgo Tegolaio in Piazza Santo Spirito che è la piazza proprio dei fiorentini e qui lì c'era il mio studio pazzesco perché era alto 16 metri volte a crociera perché me l'aveva dato il sindaco io ero andata all'epoca si parlava io ero una ragazzina giovanissima vado lì con le credenziali scritte dal liceo artistico dico io avrei bisogno di uno studio e lui mi fa dice qui c'è un palazzo si chiama palazzo Suarez ma chi era il sindaco Lapire? no era Gambugiani il sindaco Gambugiani e questo mi fa c'è un palazzo che è ancora disabitato perché va restaurato era stato alluvionato palazzo Corsini Suarez bellissimo bellissimo con l'aggetto più grande in via Maggio di Firenze era una cosa meravigliosa io infatti quando entrai c'erano tre metri di petrolio sui muri perché c'era ancora l'alluvione perché c'erano i segni dell'alluvione quindi se noi lo affittiamo a lei però ce lo deve rendere quando lo restaureremo che ora infatti è diventato il museo importantissimo della carta del restauro della carta questo dover certo all'epoca c'ero solo io e tutto sto palazzo vuoto entravi dentro e c'era questo corridoio tutto di queste bellissime cotto del Cinquecento era una cosa favolosa l'ultima mostra è stata Adolfo Natalini e devo dire che Adolfo a sue spese perché io non avevo una lira fece un catalogo alto così che mi disse Franca questo ti porterà nel mondo e ora la prossima mostra di Albumo Perozzo me la farò dare dalla mia figlia Arabella perché lì veramente ha fatto mi ha portato su in una maniera incredibile io non ho parole grazie 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 a voi a tutti non ho parole ti lascio so che ti aspettano quindi devi fuggire ti ringrazio perché ci hai portato ci hai illustrato non solo il Tumum ma anche quella che era la Firenze di quegli anni quindi grazie di cuore grazie a voi veramente di tutto scusatemi sono una chiaccherona alla prossima grazie vedete amici che cosa significa essere artisti gli artisti che ti si raccontano e ti raccontano quello che hanno vissuto come sono nati io ne ho conosciuti tantissimi ma il vero artista te ne accorgi immediatamente quando ci parli io oggi non faccio nomi perché non è carino fare nomi ma quando parlo con certa gente sono commercianti altro che artisti e dargli del commerciante è già signorile perché gli darei ben altri titoli userei ben altri appellativi ma il sistema è quello che è il sistema ve l'ho descritto un milione di volte e oggi il sistema che cosa sta facendo sta come ha fatto per i torinesi per i milanesi per i romani che li ha portati a grande cifre adesso sta riprendendo tutto il gruppo dei fiorentini che ancora costano cifre piccolissime sul mercato e li porterà le cifre che il sistema è abituato a imporvi quindi io che cosa sto facendo io che cosa sto facendo vi sto proponendo degli acquisti ancora cifre piccole 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 perché un artista dell'importanza storica di nativi che non ha niente da invidiare ai grandi lombardi dell'astrazione geometrica nativi ancora costa nulla nativi ancora costa niente quando un genio oggi credo che abbia più di 90 anni 93 94 anni vive vicino Bologna Pianoro ma un genio come Marcheggiani ancora lo paghi zero ancora lo paghi piccole cifre vi ricordate quando 5 anni fa qui in questo studio vi chiedeva Gabriele vi chiedevo io le opere di Sgro compratele le opere di Sgro compratele quanto costano oggi le opere di Sgro Cristo non ne parliamo proprio quando vi offrivo il piccolo Cristo a 40 mila euro a 35 mila euro enorme adesso lo pagate 120 e ne comprate di più di quelli di quando ve li vendevo a 40 mila euro questa è la verità ma non è che io sono un profeta io non faccio altro che dirvi quali sono le grandi operazioni di mercato in atto e naturalmente poi le operazioni di mercato in atto provocano un adeguamento dei prezzi a livelli completamente diversi allora oggi vi sto dando delle opportunità che non dimenticherete per non dimenticherete per tutta la vita non dimenticherete mai ecco io vorrei che voi tutte le opere che sono sul set le bloccaste immediatamente una grammatura di colore su Ardesia se non sbaglio controlla Germelo credo che sia del 77 di Marcheggiani di questo livello letteralmente non apprezzo letteralmente non apprezzo tre gioielli di Paolo Masi di questa straordinaria qualità tre gemme superiori di Paolo Masi di questa strepitosa bellezza i mitici cartoni pressati lavorati il racconto proprio di una favola quotidiana dalla raccolta del cartone che poi Paolo Masi adesso è anziano io gli ho sentito raccontare due o tre versioni dell'intuizione dell'uso del cartone quindi vuol dire che anche lui si ricorda oppure sapete com'è la memoria ci sono momenti diversi che ti colpiscono tutti quanti e a cui fai continuamente riferimento quindi non è che dici una bugia ma ti riferisci a momenti diversi della tua vita quindi tre gioielli di Paolo Masi che oggi avete la possibilità di comprare ad una cifra ridicola ad una cifra inesistente ad una cifra che proprio non ha la minima ragione di essere e due opere storiche due opere di qualità due opere raffinatissime superbe di Vinicio Berti veramente due opere superbe e datemi retta tra un mese un mese e mezzo ci sarà una grossa mostra delle opere di Gallingani qui ma proprio credo un mese e mezzo una cosa del genere credo a fine aprile ci sarà una mostra importantissima dell'opera di Gallingani se voi queste opere di Gallingani le prendete subito in pochi mesi riuscite a proporvi per un investimento storico per un investimento letteralmente storico il segreto sapete qual è? queste opere compratele tutte queste opere mettetele tutte nella vostra raccolta però sapete che cosa dovete fare? ve le pagate a rate non ve ne accorgete non ve ne accorgete ma due opere di Gallingani del genere quando tra due mesi ve le presenterò imbellettate incorniciate ve lo dovrò far pagare tre volte il prezzo che lo pagate oggi quando avrete la sensibilità per capire cosa ha significato Paolo Masi nella storia dell'arte concettuale nella storia dell'arte analitica vi rende questo fa la fine di Sgro questo fa letteralmente la fine di Sgro il Marcheggiani è un pezzo di storia il Marcheggiani è letteralmente un pezzo di storia le due opere di Gualtiero Nativi sono fantastiche le due opere di Gualtiero Nativi sono da batticuore i prezzi sono inesistenti i prezzi sono inesistenti non solo prendete delle opere già oggi storicamente incancellabili ma avete la fortuna di pagarle niente nel momento in cui il mercato si sta rivolgendo spasmodicamente a questi artisti quindi sono gli artisti dei quali si parlerà nei prossimi 5-10 anni di mercato sono gli artisti che ritrovate e ritroverete protagonisti ai livelli più alti di mercato fate io vi direi non ce n'è uno da non comprare non ce n'è uno da non comprare dovete comprare il Gallingani il Berti il Masi il Marcheggiani e il Nativi non ce n'è uno da non comprare però fate presto perché oggi potete creare una collezione di queste opere pagandole niente pagandole zero pagandole nulla ma mi iper raccomando ma mi iper raccomando mai 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 più avrò la possibilità di offrirvi queste opere a questi prezzi poi volete una attenzione particolare questa gemma queste gemme quelle due gemme queste due opere strepitose queste due opere da sogno oggi le pagate mille e cinquecento euro ciascuna ma sapete perché ve lo voglio dire io che non vi dico mai un prezzo perché queste opere che oggi pagate mille cinquecento euro ciascuna costeranno più delle opere di Sgro che oggi pagate venti venticinque mila euro vi dico vorrei due nulla tenenti due amici per i quali mille cinquecento euro sono una spesa possibile solo perché le potete pagare a rate quindi vorrei che i compratori di queste opere fossero persone che hanno bisogno proprio perché è matematico noi parleremo di queste opere di Gallingani a prezzi addirittura più alti di quelli che sono oggi i prezzi delle opere di Sgro prendile tutte e due prendile tutte e due prendile in un secondo pagatele a rate pagatele come vuoi ma non le perdere per nessun motivo al mondo no velocissimi non voglio attese dato che riuscire a comprare opere di quest'artista oggi è difficilissimo oggi è difficilissimo mi iper raccomando non perdete un istante non perdete un secondo immediatamente 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 aspettate a darmi retta poi quando le pagherete dieci volte questo prezzo non il doppio non il triplo non il quadruplo ma dieci volte questo prezzo mi direte per l'ennesima volta avevi ragione il meta realismo di Alberto Gallingani vi perseguiterà per tutta la vita e oggi state esitando di fronte a due gemme del genere poi il Marcheggiani le opere di nativi ma dovete essere velocissimi ma dovete essere velocissimi perché queste opere non le troverete più tanto meno a condizioni di prezzo del genere siate immediati mi mi iper raccomando siate immediati poi le opere di Paolo Masi le due gemme di nativi siete pronti siete pronti clea scrivi 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 che cosa ti dicono buongiorno franco ciao bellissima dimmi tutto scrivo sto rispondendo a tutti i messaggi complimenti per l'intrattenimento con franca informazioni sulle opere marcheggiani è molto richiesto le opere di franca gallingani e i due gallingani anche gallingani che tra l'altro ti hanno mandato i suoi saluti ma lo saluto anch'io con grande gioia però voglio che due amici approfittino immediatamente di questa opportunità mi iper raccomando allora seguitemi 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 perché avete delle opportunità incredibili avete delle opportunità da sogno oggi ho voluto presentarvi franca pisani perché voi vi rendeste conto di che razza d'artista avete davanti agli occhi e lei all'umiltà del grandissimo all'umiltà dell' l'artista enorme dell'artista epocale stamattina ha fatto lezione in un museo tanto per farvi capire ma la cosa importantissima qual è lei non vi ha voluto dire cosa accadrà nel 2023 non ve l'ha voluto dire non può ma poi sai c'è sempre il curatore che c'è sempre l'ente che deve annunciare l'evento ma Franca non è l'artista che pagherete come Boetti di cui ci sono opere importantissime e ci sono opere più banali no tutte le opere di Franca dalla pergamena degli attraversamenti fino alle mitiche opere del Marino Marini non avranno prezzo perché avete capito come dipinge Franca le sue opere sono inimitabili perché nessuno le sa fare perché un falsario non le sa fare un falsario non ha la manualità non ha ma poi gli elementi chi sottrae chi decolora con gli ossidi chi aggiunge con gli ossidi un falsario non ha nemmeno i materiali per poterla imitare e le opere di Franca Pisani sono pochissime e già hanno invaso le pareti e dei più grandi musei d'Italia e del mondo l'archivio è perfetto l'archivio è perfetto Franca Pisani è il fenomeno dei prossimi 50 anni ma a livello mondiale e una collezione di opere come quelle che ho la fortuna di farvi vedere oggi dal numero 1 al numero 7 dove ho la fortuna di proporvi due opere colossali del Marino Marini due gemme di dimensione contenuta legate alle problematiche ecologiche della contemporaneità dove addirittura l'immagine si ottiene sottraendo il colore dalla tela e poi due grandi opere da batticuore due grandi opere da batticuore questa resta nella storia dell'arte universale questa ve lo dico oggi ve lo dico adesso questa sarà un record prize non solo di Franca Pisani ma di un artista italiano della sua generazione nel mondo premiata già dal museo tessile di Torino ma da tutti quanti i presidenti ma questa è un'opera da sogno e qui non ne parlo nemmeno perché qui c'è la storia dell'uomo qui c'è il rapporto uomo-natura questa è un'opera colossale che già viene da un museo perché l'orto botanico del museo di Brega è un museo all'aperto ed è una gemma colossale ho i prezzi i prezzi i prezzi sono ancora prezzi possibili ma ve l'ho detto qui parleremo di prezzi impossibili per coloro che non sono più che abbienti per coloro che non sono più che forniti sono tutte sono sette opere tutte da museo tutte fondamentali anche le due piccoline che oggi hai la fortuna di poter catturare a un prezzo piccolissimo quindi è il vostro momento è il vostro momento lo ricorderete per sempre ve l'ho detto ormai Franca Pisani è contrattualmente legata ad una delle più grandi gallerie internazionali e con la mostra che vi ha annunciato lei vi farò il nome perché sarà sponsorizzata da quegli operatori finanziari quindi amici miei avete uno dei più grandi artisti della contemporaneità perché Franca fra gli artisti contemporanei è nel novero dei primi dieci al mondo quindi vi sto dando un'opportunità epocale di acquisizione storica di valore assoluto e le opere sono tutte da batticuore e le opere sono tutte letteralmente straordinarie e le opere sono tutte clamorosamente vincenti poi è il vostro momento guardate noi stiamo proponendovi una serie di trasmissioni che letteralmente lasciano un segno nella storia del mercato lasciano letteralmente un segno incancellabile nella storia del mercato inutile dirvi che tocca a voi dai qual è l'opera che vi piace di più qual è l'opera che desiderate possedere ci sono le due opere del Marino Marini la numero uno acqua e acqua un metro per 90 la numero due mare rosso e bianco che è un 100% poi le due opere più piccoline la numero tre pensiero selvaggio 26 per 22 e la numero quattro terra e mare delle stesse dimensioni poi la numero cinque mediterranea 110% e strepitosa la numero 6 movimenti subacquei un metro per un metro e poi c'è quella scultura quel giallo Iran quel travertino su quel tronco dell'Ottocento che è qualcosa di clamoroso già pubblicato in occasione della mitica mostra all'orto botanico di Brera amici tocca a voi io mi sto letteralmente battendo per voi vi sto dando opportunità storiche che non potrete che ricordare per tutta la vita sette opere che dovete comprare avete Boetti avete Cunellis avete Fabro avete Cucchi avete Paladino avete le opere Manzoni avete Fontana avete le opere di artisti italiani fondamentali aggiungete alle opere che avete una di queste opere di Franca Pisani mi direte è benedetto il momento in cui ho fatto questa scelta mi direte è benedetto il momento nel quale ho fatto questa scelta ditemi voi su quale opera vi volete concentrare tutti su Franca sono in questo momento tutta tutta su Franca ma i prezzi sono ancora ridicoli ma i prezzi sono ancora piccoli 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 e se queste opere non le bloccate adesso non avrete mai 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 più la gioia di poterle acquisire i prezzi sono zero i prezzi sono zero ditemi 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 quanto pagate oggi quest'opera e cosa vi ritroverete in mano quanto pagate oggi queste gemme e cosa vi ritroverete in mano queste sono le ultime opere che esistono dall'archivio di Franca Pisani che provengono dal Marino Marini questa è l'ultima volta nella storia di questo artista che riuscite a prendere due opere di questa importanza a prezzi umani tocca a voi tocca a voi tocca a voi il segreto sta nel pagarle a rate il segreto ve lo ripeto bloccatele pagatele a rate me ne sarete grati per tutta la vita bloccatele pagatele a rate mi direte grazie per tutta la vita queste costeranno più delle più belle opere di Bonalumi queste opere polverizzeranno quelle che sono le quotazioni attuali dei più bei quadri di Bonalumi quando ti accorgerai di che cosa stai perdendo a tutti i livelli di collezionismo a tutti i livelli di collezionismo ve lo dico con il cuore voglio mettere gli amici più cari nella condizione di avere un'opera storica di Franca Pisani avanti ditemi quale desiderate toccare con mano per la numero quattro che è successo che hai fatto che hai fatto il super amici cari la numero 6 la perdete la numero 1 e la numero 2 le perdete matematicamente poi mi direte avrei dovuto comprarle tutte le avrei dovute comprare tutte 7 le avrei dovute comprare tutte ma se non arrivate per una questione di disponibilità ad acquisire queste grandi non perdere quelle piccoline che hai la fortuna di pagare zero che hai letteralmente la fortuna di pagare zero veloci vedo tanti amici che si stanno interessando ma tanti amici che stanno colpevolmente esitando no vi aiuto voi telefonate ditemi certo mi dica tutto vi aiuto vi aiuto con gioia allora la 1 risposta viene 6 mila no la 1 5 7 la 2 6 mila 2 6 7 8 8 8 9 10 10 12 12 12 13 12 13 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 19 19 20 19 20 19 20 21 19 Quindi non pensiate di avere in altre trasmissioni opere di questa importanza a prezzi del genere. Dimenticate nella maniera più assoluta queste opportunità. Ma sono opere clamorose che non avrete. La numero 4 non c'è più, la tolgo. Ma prendetele tutte, ma prendetele tutte, sono letteralmente preziosità. La numero 6 ve la chiederà un museo, la numero 1 e la numero 2 che vengono dal Marino Marini ve le pagheranno il prezzo che vorrete voi, costeranno infinitamente più delle opere più preziose di Bonalumi. E io sono quello che ti ha fatto comprare i Bonalumi a 5 mila Euro. Quelli che oggi rivendete a 80 mila, 90 mila Euro, li avete comprati da me a 5 mila Euro. E su Franca Pisani vedrete quelle che saranno le prossime mostre. Non fai tre biennali di Venezia, non arrivi al Boburg, non arrivi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Cannes, di Nizza, di Monte Carlo. Non arrivi agli Uffizi, non arrivi all'Hamburger Bano a Berlino, alle mostre a Vienna. Non arrivi al Macro di Roma con 2 mila metri di esposizione. Se non sei un grande, se non sei un grande, mi fate una gabbia infinita. Queste gemme le pagate zero e vi mettete in casa un artista vincente, non a livello italiano, a livello mondiale, non a livello italiano, a livello mondiale. E sapete perché mi fate rabbia? Perché comprate da me pittori che oggi vanno di moda a 15 mila, 20 mila, 25 mila Euro, che mai e poi mai verranno valutati storicamente, artisticamente ed economicamente ai livelli di Franca Pisani. E mi piange il cuore vedervi fare sacrifici per comprare un quadro che va di moda a 20 mila Euro e poi non vi mettete in casa un'opera del genere che resta incancellabile nella storia dell'arte e dell'umanità. Ma siate velocissimi! Quando c'è una mostra di Franca Pisani esce sui telegiornali, esce sulla stampa specializzata di tutto il mondo. Quando avete la fortuna di poter prendere a prezzi ridicoli opere di questa importanza e poi ve le pagate addirittura a rate come volete, eh amici, questi sono i momenti essenziali. Questi sono i momenti fondamentali. Questi sono i momenti che ricorderete per la vita. Precipitatevi, precipitatevi, precipitatevi. Perché poi i rimpianti saranno enormi, totali, ma il rimpianto non conta nulla. L'importante è bloccare le opere quando sono ancora in una dimensione economica possibile. Guardate che confermate queste, quando vi riproporrò Franca Pisani, vi devo chiedere un prezzo totalmente diverso. Confermate queste, dimenticate per sempre i prezzi che state ottenendo in questa giornata. Dimenticate per sempre le cifre che state ottenendo in questa trasmissione. Mi iperraccomando. Le due opere del Marino Marini sono pazzesche. Ma... È confermata la numero due. La numero due non c'è più clamorosa, è straordinaria. Quindi del Marino Marini c'è ancora un solo quadro. C'è ancora una sola opera. C'è l'ultima clamorosa, incredibile, straordinaria opportunità. L'ultima clamorosa, incredibile, straordinaria opportunità. Poi mi direte cosa ho combinato. Poi mi direte cosa mi sono lasciato sfuggire. Ma come succederà con i boetti? Che ricordi dei boetti? Ma me lo ricordo con gli sgro, me lo ricordo con i bonalumi, me lo ricordo con i boetti. Quando vi vendevo un boetti così, a 8 milioni delle vecchie lire, il panico era... Oggi costa 600 mila euro. E questa è un'artista superiore a boetti. Mettetevelo bene in testa. Non arrivi al Boburg. Non arrivi agli uffizi. Vi sto parlando di mostre già fatte. Non arrivare all'Hamburger Banoff di Berlino, accanto a Dandy Warhol e a Basquiat. Significa, ma è possibile che non vi accorgete che avete di fronte agli occhi l'opportunità della vita? L'opportunità che non vi capiterà mai più. E avete la fortuna di comprare opere di questo livello a prezzi ancora piccolissimi. E la fortuna enorme è che il prezzo è piccolo, ma avete anche l'opportunità di pagarle a rate. Questo mette anche il piccolo collezionista nella condizione di essere vincente. Nella condizione di essere assolutamente vincente. Ma dai! Come Carmelo? Quando tu facevi il mercante negli anni 60, devi pagare le opere. E la differenza sapete qual è? Devi pagare i contatti. Che oggi io sarei ricchissimo. Se avessi avuto la possibilità che avete adesso di pagare a rate le grandi opere. Io di Fontana ne avrei comprati a non finire se avessi avuto la possibilità di pagarli a rate. Solo che ai miei tempi o i soldi li davi tutti subito o il quadro non te lo dava nessuno. Oggi avete una fortuna sfacciata. Avete l'opportunità di costruire una grande collezione con la testa e con i consigli giusti, pagandola a rate. Quindi non c'è bisogno di essere ricchi oggi per costruire una grande collezione proiettata verso il domani. Oggi basta avere la testa e seguire i consigli vincenti. Ultima opera di Franca Pisani proveniente dal Marino Marini. Poi, scusatemi, ci sono le due opere ecologiche e questa in modo particolare, la numero 6. Ma sono due opere emozionanti che si legano alle problematiche. Franco, scusa, possiamo rivedere l'ultima piccolina rimasta, la numero 4? La numero 3 si lega allo stesso ciclo delle opere ecologiche dedicate al mare, gioielli, letteralmente gioielli, letteralmente opere superiori, letteralmente gemme. Guarda che gioiellino. No, no, tanto oggi... Queste sono le esposte di Torino? Come? Queste sono quelle della mostra di Torino. Tutte e tre, la tre, la cinque e la sei, sono tutte e tre legate alla mostra torinese. Tre opere preziose, tre opere di livello e qualità straordinaria. Questa, poi, ottenuta per sottrazione, è addirittura emozione pura. È addirittura emozione pura. Dai, amici, non fatevele portare via. Guardate, vi stiamo proponendo queste opere. Se Franca Pisani sapesse i prezzi che vi stiamo proponendo, non ci darebbe più un'opera. Non ce ne darebbe più una. Ve lo dico francamente. Non ce ne darebbe... Confermata la numero tre. Allora, la numero tre non c'è più. Sono rimaste la uno, la cinque e la sei e la strepitosa scultura alla numero sette. È l'incredibile, straordinaria scultura che viene dall'orto botanico di Brera alla numero sette. Dai, amici, voglio proprio sentire tutta la vostra partecipazione. Voglio proprio sentire tutto il vostro amore nei confronti di queste gemme di Franca Pisani. Dovete comprare così come vi ho fatto comprare i Burri, così come vi ho fatto comprare i Bonalumi, così come vi ho fatto comprare, quando non li voleva nessuno, i tagli di Fontana, così come vi ho fatto comprare le più belle opere di Sgro. Però dovete prenderle, dovete prenderle. Voglio un amico personale che si mette in casa quest'opera. Mettila in casa. Non ti piace? Mettila in bagno. Tanto diventerà la regina del tuo salotto. Oggi la puoi mettere nell'angolo più nascosto di casa. Io ti dico mettila in bagno perché in bagno mediti e osservi. Quindi hai il tempo. Ma quest'opera arriverà a cifre tali per cui diventa la regina del tuo salotto. Anche se oggi hai in salotto opere per le quali hai speso centinaia di migliaia di euro. E ti invidieranno i grandi musei. La numero uno dal Marino Marini, prendila. Questa incredibile e straordinaria scultura. Non te la lasciare sfuggire per nessun motivo al mondo. guardate gli ultimi minuti sulle opere di Franca Pisani. O decidete adesso o queste opere a questi prezzi e non avrete mai più la gioia di poterle acquisire. Dai, che dopo devo tornare sulle opere di Nativi, di Marchegiani, di Paolo Masi, eccetera. Che fai? Aspetti? Che fai? Aspetti? Queste opere, bloccale adesso. Inevitabilmente mi dirai grazie, inevitabilmente mi dirai grazie un milione di volte. L'ultima opera di Franca Pisani è che viene dal Marino Marini. Questa è l'ultima, questo è il ciclo cosiddetto Cantiano, questo è il ciclo della storia. Bene, perdetelo, sono le opere celebrate al Macro di Roma, sono le opere celebrate al Marino Marini. Ma a livello storico, a livello museale. Io non vi capisco, letteralmente non vi capisco. Avete l'artista principe della cultura contemporanea, a una cifra a cui comprate il nulla più assoluto. Avete il coraggio di dirmi cosa avete comprato, ma non al prezzo a cui vi stiamo dando le opere di Franca Pisani, ma cosa avete comprato a 20 mila, 30 mila euro. Poi, fra 12 mesi, faremo il confronto tra il prezzo di un'opera di Franca Pisani e il prezzo di quell'opera che voi oggi magari avete comprato anche da me a 15 mila, 20 mila, 25 mila euro. e vogliamo cominciare a fare dei paragoni. Io li farei volentieri, io li farei con gioia e vi dico, quest'opera prendetela a tutti i costi. e vi dico, quest'opera e questa gemma, e questa gemma, queste due opere prendetele a tutti i costi. Me ne sarete grati per tutta la vita. Vi stiamo proponendo dei prezzi che non avrò mai più la gioia di potervi proporre. Ma quando vi capitano opportunità così evidenti, opportunità così eclatanti, non lasciatevele sfuggire per nessuna ragione al mondo. Non lasciatevele sfuggire, guardate, gli darei un calcio e la sfonderei. Ma proprio è assurdo perdere delle opere del genere a un prezzo del genere. Poi vi renderete conto di quella che è la realtà e vi renderete conto della importanza di seguire il museo. Io non vi sto chiedendo di seguire me, vi sto chiedendo di seguire i più grandi musei del mondo. Dal Boburga all'hamburger Banoff, poi non vi dico, ve l'ha annunciata Franca Pisani stessa, quella che sarà la mostra che nel 2023 vi renderà incomprabile, a meno che non disponiate di enormi capitali, l'opera di Franca Pisani. Va buono. Io mi fermo. Ma siete colpevoli di autolesionismo. Io mi fermo, faccio i più vivi complimenti a coloro che hanno avuto l'intelligenza di bloccare le opere di Franca Pisani, ma vi state facendo male da soli, letteralmente vi state facendo male da soli, ma molto molto male, ma molto molto male. Va buono. Colpevoli, 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 colpevoli. Colpevoli, colpevoli, colpevoli. Va buono. Allora, rivediamo le opere di Nativi, rivediamo quella stupenda opera di Marcheggiani, quella a grammatura di colore su Ardesia. Marcheggiani così del 77 oggi ha un prezzo del genere che non ve lo dà nessuno, questo ci potete giurare, non ve lo dà nessuno. Tre gemme di Paolo Masi, una più importante dell'altra, una più emozionante dell'altra. guardate la bellezza di queste tre opere di Paolo Masi, poi ci sono quelle piccoline che letteralmente pagate nulla, ma scusatemi, artista che ha più di 80 anni, uno degli artisti più importanti della storia della pittura analitica, tre opere tipiche di grande spessore, di grande qualità, tre opere che ci portano proprio nel contesto fondamentale della pittura analitica. ci sono la numero 12 e la numero 13 che avete la possibilità di prenderle a 1900 Euro, ma vi rendete conto? 1900 Euro, le potete pagare a rate come volete a livello di 35 Euro al mese. vi ricordate il quattro lettere di Boetti che ti chiedevo di comprarlo a niente? tanto questi artisti non verranno riscoperti, sono già completamente riscoperti. nativi, marcheggiani, Paolo Masi, gallingani diventano i protagonisti del mercato dei prossimi cinque anni. Guardate già le prenotazioni per le mostre ufficiali, non è difficile seguire quello che il mercato vi propone. Vi ho spiegato un mare di volte come funziona il mercato e questi sono gli artisti che oggi i grandi operatori finanziari stanno promuovendo. ed è la mia pubblicità, perché vi dico, io che non dico mai i prezzi, che queste gemme di gallingani ve le sto dando a 1900 Euro? Perché vi ricorderete fra due o tre anni che vi ho presentato opere del genere a 1900 Euro. Gallingani tra poco, nel mese di aprile, ci sarà una grande mostra al museo dell'abbazia di Montecassino. Bene, io vi sto dando due gioielli di gallingani a 1500 Euro ciascuno. voglio vedere la vostra faccia quando sentirete i prezzi di opere similari di gallingani dopo la mostra di Montecassino. dopo la mostra di Montecassino. E allora mi direte, avrei dovuto comprarne non uno, ma dieci. e lo so, è iper evidente, è clamorosamente vero che oggi avete la possibilità di acquisire opere del genere a un prezzo incredibilmente conveniente, ma le dovete comprare oggi. Dopo la mostra il prezzo cambierà in maniera totale. Magari ti daranno l'opera imbellettata, noi te la diamo così, nuda e cruda, senza cornice. Magari ti daranno l'opera con una bella cornice, ma te la faranno pagare quattro volte il prezzo di oggi. E questo tra pochi giorni, eh? Tra pochi giorni. Questo è il più grande artista vivente, l'inventore del metarealismo. Questo è un artista di 84 anni e che è già nella storia. E vi sto dando la possibilità di acquisire le opere più intelligenti, le opere più affascinanti a 1.500 euro ciascuna. Quindi a zero. Quindi letteralmente a zero. Approfittatene perché è un'opportunità vincente che non potete dimenticare. Approfittatene perché è letteralmente un'opportunità storica. Allora, certo, ci sono le due opere di Vinicio Berti, tutte e due degli anni 70. Tutte e due di straordinario livello qualitativo, tutte e due incredibilmente vincenti. Guarda che gioiello di Vinicio Berti. Guarda che gemme di Vinicio Berti. Chiedetemi, perché ormai siamo nella fase finale di questa trasmissione e naturalmente voglio ritornare lì dove voi mi chiederete di ritornare. Voglio riproporvi ciò che voi mi chiederete di riproporre. Grazie. 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 Mi diceva la mia nonnina che l'erba voglio non crisce nemmeno nel giardino del re. però io voglio farvi fare un acquisto clamoroso se c'è un artista che oggi prendere il primo quadro che dovete comprare ve lo ripeterò fino alla noia è Franca Pisani se oggi non vi comprate Franca Pisani non è che non vi comprate un artista che oggi costa uno e domani costerà due o tre no, non comprate un artista che oggi costa uno e che come minimo domani costerà 20, 30 capisci? quindi perdere l'opportunità di prendere le opere di Franca Pisani è quanto di più abominevole possa compiere un collezionista oggi e dato che ho ancora tre opere clamorose di Franca Pisani a vostra disposizione e la più importante delle sculture che viene addirittura dalla mostra all'orto botanico di Brega vorrei che qualcuno di voi si sensibilizzasse vorrei che qualcuno di voi mi dicesse quella scultura la voglio in casa quei tre grandi quadri li voglio in casa chiamatemi ma chiamatemi subito perché vi darò la possibilità di acquisire queste opere a condizioni di prezzo incredibili e mi sarete grati per sempre di quello che sto facendo e a queste tre opere voglio aggiungere una delle opere più importanti di Paolo Masi che abbia mai avuto la gioia di potervi proporre un'opera di grandi dimensioni ma soprattutto di struttura pittorica pazzisca questo è uno dei quadri incancellabili di tutto il movimento analitico non solo italiano ma internazionale allora mancano pochi minuti alla fine della trasmissione molti di voi hanno chiesto il prezzo dell'opera di Paolo Masi molti di voi hanno chiesto il prezzo di quelle opere pazzesche di Franca Pisani il primo che mi telefonerà ma solamente uno ma solamente uno solo e soltanto il primo che mi telefonerà indicandomi una delle opere che sono sul set vi farò un prezzo clamoroso però attenzione perché solo il primo che mi chiamerà solo e soltanto il primo che mi chiamerà che arriverà secondo ha perso non è che chi arriverà secondo ha perso lo sapete che quando faccio così voglio premiare proprio dal punto di vista economico chi segue con attenzione la trasmissione quindi un'occasione pazzesca è un prezzo clamoroso al primo che mi chiamerà vediamo chi sarà il vincente forza poi arrivano i messaggi guardate che le opportunità che vi sto proponendo sono incredibili guardate che le opportunità che vi sto proponendo sono impensabili ma è fondamentale è la tempestività ma è fondamentale è la tempestività non perdete un momento magico come quello che state vivendo non perdete un momento incredibile come quello che state vivendo vi aiutiamo nella maniera più assoluta vi metto nella condizione di acquisire le opere più clamorose a prezzi che non sono totalmente inimitabili quindi Amici, state vivendo momenti fantastici, state vivendo momenti inimitabili, incredibili questa è una di quelle opere che fanno la storia di un artista sublime, quelle opere di Paolo Masi non le potrete dimenticare mai quelle opere pazzesche di Paolo Masi, questa geometria del colore non potrete dimenticarla mai una delle opere più interessanti di tutta la storia della pittura analitica una delle opere più affascinanti di tutta la storia della pittura analitica guardate che cos'è questa grammatura questo intervento emozionale su strati di cartone sovrapposto una delle opere sublimi una delle opere fondamentali di Paolo Masi a me piacciono enormemente anche le due piccoline certo quella grande ha un fascino particolare ma le due piccoline sono raffinatissime e la cosa importante sono estremamente rappresentative guardate che meraviglia e questo è uno di quegli artisti su cui oggi non solo c'è l'attenzione della critica ma c'è l'attenzione spasmodica dei collezionisti più raffinati non solo in Italia ma addirittura nel mondo è confermata l'opera numero 13 l'opera più piccolina di Paolo Masi è confermata veramente complimenti una delizia letteralmente una delizia le opere giuste di Paolo Masi la 12 è la grande alla numero 11 la 12 è la grande opera preziosa alla numero 11 mi iper raccomando le opere ancora a vostra disposizione di Franca Pisani su Franca Pisani state ve lo dico con il cuore come ve l'ho detto su Mangioni e come ve l'ho detto su Boetti e come ve l'ho detto su Bonalumi e come ve l'ho detto su Isgro su Franca Pisani state sbagliando la dimensione storica dell'artista tra gli artisti contemporanei in Italia Franca Pisani è nei primi tre tra gli artisti contemporanei nel mondo Franca Pisani è tra i primi dieci oggi ma dove lo trovate un artista che già ha frequentato il Boburg un artista del quale parlano i direttori di museo di tutto il mondo oggi ve lo ripeto sto mettendo a vostra disposizione delle opere di Franca Pisani è che non avranno prezzo Franco ti faccio una proposta dimmi manca meno di mezz'ora alla fine lo facciamo e lo scriviamo fare una proposta per qualunque delle opere allora guardate vi lancio una sfida mancano 22 minuti alla fine della trasmissione ora vi faccio vedere tutte le opere che sono ancora sul set ora vi faccio vedere tutte le opere che sono ancora sul set e vi dico fate una proposta voi per l'opera che preferite naturalmente ci sono delle opere delle quali vi chiedo 10 faccio un'ipotesi se mi fate una proposta a 5 non vi posso che dire poco fa chiamato un signore voleva i due pisani 5 e 6 in cambio di una pisani e non si può fare così c'è stato un amico che addirittura mi ha proposto due pisani ma te ne do una dico scusa allora mi tengo le due che ho perché devo con un conguaglio con il quale non compri nemmeno le noccioline americane quindi non esiste però io adesso vi lancio una sfida mancano 20 minuti alla fine della trasmissione tutte le opere che sono ancora sul set vi dico fate una proposta fate una proposta ma per le opere della Pisani per le opere di Nativi per la grande opera di Marcheggiani per le due opere di Paolo Masi per le due opere di Vinicio Berti per le due opere di Gallingani allora dai fate una proposta voi voglio proprio vedere quello che succede voglio proprio ve lo sto dicendo vi sto dando delle opportunità che non avete mai avuto e che mai più si ripeteranno ditemi qual è l'opera che desiderate rileggere ditemi qual è l'opera che desiderate rivedere e fate una proposta voi il tempo passa mancano pochi minuti velocissimi beh c'è il Marcheggiani da follia a parte le opere di Franca Pisani ci sono delle opere sul set letteralmente da sogno vi posso dare dei suggerimenti devo dire che c'è grande fermento al centralino e beh visto che potete fare le proposte voi è comprensibile hanno fatto una propostaccia per l'opera numero 17 di Gallingani e ne conferma allora l'opera numero 17 di Gallingani che già vi avevo fatto una propostaccia io e immagino che voi l'abbiate fatta ancora più ancora più conveniente per voi quindi quel Gallingani non c'è più di Gallingani rimane solo l'opera numero 16 ma le opere di Nativi l'opera di Marcheggiani le due opere che avete ancora a disposizione di Paolo Masi le due opere di Vinicio Berti l'altro Gallingani dai visto che potete fare una proposta voi approfittate di questa opportunità sulle opere che avete ancora a disposizione di Franca Pisani ma approfittatene al volo ma approfittatene al volo questa trasmissione è la vostra fortuna questa trasmissione è letteralmente la vostra fortuna fate tante proposte ma vedo che ne possiamo accettare poche le proposte sono tante le accettazioni purtroppo quindi vi ringrazio vi ringrazio per le proposte però non vi possiamo dare soddisfazione mi dispiace mi dispiace che non possiamo dare soddisfazione stiamo ragionando con un paio di persone diciamo serie altri che offrono 1000 euro per il quadro che vale 10.000 si pagano pure per noi lo dalle amici miei non arrabbiatevi ma un quadro che vale che costa 10.000 mi offrite 1.500 è chiaro che non ve lo posso dare non l'abbiamo mica rubati perché non vengono mica quando di un'opera vi chiedo 10.000 12.000 e mi offrite 1.500 è chiaro che non è io parlo sempre quando vi chiedo di fare una proposta una proposta che sia ragionevole che sia proporzionata sicuramente a vostro vantaggio questo è ovvio matematicamente a vostro vantaggio però che sia proporzionata a quello che è il mercato a quella che è la realtà del valore economico dell'opera ma c'è l'ultima opera di Franca Pisani del Marino Marini che non prenderla con un'opportunità così magica ma c'è la più bella delle opere ecologiche di Franca Pisani che avete la gioia di poterla acquisire a un prezzo di favore come non mai che è letteralmente immorale e perderle ma poi fatemi una proposta decente sull'opera di Marcheggiani fatemi una proposta decente sulle opere di Paolo Masi o sulle due opere preziose o di Nativi o di Berti posso dirvi quali sono i quadri che sono la vostra fortuna questo prendilo questo te lo sto regalando prendilo mi dirai benedetto il momento in cui l'ho comprato ci metterai una bella cornice lo renderai più piacevole per l'arredamento ma questo è un pezzo di storia questo è uno dei più grandi quadri del materialismo uno dei pochi movimenti contemporanei che costruisce il domani che costruisce il domani intellettualmente hai un'opportunità magica una gemma del genere non la perdere hai un'opportunità letteralmente magica una gemma del genere non la perdere guarda che mancano pochissimi minuti alla fine poi sono le trasmissioni che non potrete che rimpiangere perché vi stiamo dando delle opportunità che posso definire solamente magiche che posso solamente definire magiche o le 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 Allora, rileggiamo tutte le opere che sono sul set, però facciamo così, partiamo dall'ultima. Partiamo dall'ultima, da quella gemma di Gallingani, poi ci sono le due opere, una più bella dell'altra di Vinicio Berti, tutte e due del 73-74, siamo proprio all'inizio degli anni 70, quindi le due opere, una enorme e una piccolina, ma pazzesche di Paolo Masi, due opere letteralmente meravigliose di Paolo Masi e al numero 10 c'è quella grammatura su Ardesia del 77 di Elio Marcheggiani, che è da sogno per un collezionista attento, quella è un'opera pazzesca, quella è un'opera letteralmente immortale. E poi anche di dimensioni importanti, perché è un 70x70, quindi un'opera molto significativa, un'opera estremamente importante di Elio Marcheggiani. Una preziosità al numero 9 di Gualtiero Nativi, la dimensione è contenuta, ma la qualità è altissima. Guardate che cos'è quell'opera assolutamente preziosa di Gualtiero Nativi. Siamo nel 1978, e poi al numero 8 una grande opera di Gualtiero Nativi, addirittura del 1967, quindi le opere storiche, le opere museali, le opere fondamentali, le opere di rilievo assoluto di questo artista magico, di questo artista letteralmente sublime. Quindi una scultura di Franca Pisani emozionante, un'opera di Franca Pisani letteralmente emozionante, che viene dalla mitica mostra all'orto botanico di Brega, e al numero 6 l'opera che vi cambia la vita. A voi sembrerà eccessivo, a voi sembrerà un'affermazione priva di senso, ma vi garantisco che è vera. Questa è un'opera che trasporta la vostra collezione all'attenzione dei più grandi musei del mondo. Questa è un'opera di diminuzione. Addirittura il disegno si ottiene con la decolorazione della tela attraverso gli ossidi. Quindi un'opera ottenuta per sottrazione. Siamo di fronte a uno dei più grandi quadri della contemporaneità. Ve lo dico con il cuore. Come quando vi ho presentato le opere più belle di Manzoni, come quando vi illustravo i primi tagli di Fontana. Questa è una delle più grandi opere di studio ecologico della contemporaneità, ottenuta addirittura per sottrazione. Questa è un quadro immortale che porta in casa vostra i più grandi direttori di museo del mondo. Poi, altra opera dello stesso ciclo, ma questa è esattamente al contrario. Questa è dipinta, grandiosa, e poi, sempre di Franca Pisani, l'ultima opera del magico ciclo del Museo Marino Marini. Con le condizioni di prezzo immorali che Gabriele vi sta concedendo in questi ultimi minuti di trasmissione, dovreste assolutamente non perdere delle opere di questo livello. Io, come il solito, mi sto battendo per voi. E dato che Gabriele ha detto e lo mantiene che appena mi fate una proposta possibile in questi ultimi minuti verrà accettata, approfittate di questi ultimi minuti di trasmissione per fare al centralino le vostre proposte economiche sull'opera che volete vedere a casa, sull'opera che volete inserire nella vostra collezione. Ma approfittate di un momento magico che stiamo proponendo. ultimi minuti, eh? Quindi affrettatevi a bloccare l'opera che desiderate. qua, allora sei, quattro e cinque, quattro e due. quel Nativi degli anni Sessanta è veramente qualcosa di magico ma ve lo dico con il cuore concentratevi sulle opere di Franca Pisani e concentratevi sull'ultima gemma di Gallingani ma ve lo dico con il cuore approfittate di questi ultimi istanti di trasmissione di trasmissione riuscirete ad ottenere ciò che non avete mai ottenuto. precipitatevi è un momento magico mancano tre minuti eh quindi dovete fare presto dovete chiamare immediatamente dovete non perdere le opere ipervincenti fate attenzione perché poi le grandi opportunità vanno colte nel momento in cui si manifestano poi non è che domani mi potete chiedere le stesse condizioni di oggi ogni trasmissione è una storia a sé ogni trasmissione ha una sua ragione di essere quindi vi avverto pochissimi istanti dove concentrate la vostra attenzione pochissimi minuti su quale opera vogliamo concentrare la vostra sensibilità qui prendete un maestro al prezzo a cui comprate un dilettante lì la numero uno è confermata lì prendete un'opera epocale e faccio i complimenti a chi ha confermato l'ultima straordinaria opera di Franca Pisani legata al Marino Marine prendete la numero sei avete un minuto di tempo vi dico prendete l'opera al numero sei vi dico prendete quel gioiello di Franca Pisani al numero sei e poi il Nativi il Masi è quell'opera di Gallingani per la quale mi batto come un leone bene permettetemi di ringraziare tutti i miei collaboratori da Carmelo a Federico a Clea a Gabriele a Francesco che oggi ci sono prodigati per la realizzazione di questa trasmissione mi permetto di ringraziare anche tutti voi per la vostra attenzione per la vostra partecipazione seguiteci perché come il solito vi proponiamo delle trasmissioni estremamente interessanti e non solo interessanti dal punto di vista critico ma anche estremamente convenienti sul piano prettamente economico ci fermiamo qui vi invitiamo domani saremo ancora con voi ma saremo ancora con voi partendo fin dal mattino presto perché domani mattina alle 10 ci sarà la prima trasmissione della giornata grazie ancora della vostra attenzione con tutto il cuore alla prossima attenzione Grazie a tutti.